Domenica 6 novembre è stato eletto il nuovo presidente del Comitato di Quartiere Provvidenza San Giuseppe. Si tratta di Carmen Frau, eletti pure i consiglieri. Io sono il nuovo presidente del Comitato di Quartiere San Giuseppe Provvidenza. Le mie priorità saranno i progetti sui nostri quartieri. Purtroppo il nostro degrado è molto alto. Cercheremo di ripristinare tutto il quartiere, se è possibile, con l'aiuto del Comune e delle associazioni che effettive ci possono dare una mano. Noi come Comitato cercheremo di fare il possibile per andare avanti. Le problematiche del quartiere sono innumerevoli, è molto difficile da risolvere. Comunque noi ci siamo prefissi gli obiettivi da risolvere nel più breve tempo possibile. Speriamo, con l'aiuto dell'amministrazione, di riuscire a portarli a compimento. Noi ci impegneremo insieme con il nuovo presidente, ci impegneremo per far sì che il nostro quartiere riesca in qualche modo a rivivere di nuovo e ad eliminare tutti quei problemi che ci sono, tra il degrado, l'insicurezza, la cattiva igiene. I vari muri che chiudono le strade, le case pericolanti. Le case pericolanti perché ce ne sono abbastanza. Quindi cercheremo in qualche modo di risolvere, di segnalare sempre all'amministrazione comunale e di far sì che l'amministrazione sia presente in questo territorio perché abbiamo veramente bisogno.